E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati nel nostro appuntamento di scambio di esperienza di santità nella Chiesa di come l'esperienza della lettura, dell'ascolto, dello studio, del Vangelo, delle parole di Gesù metta sempre in discussione una cultura, un modo di essere, una vita ogni anno viviamo questo tempo dei 40 giorni in preparazione alla Pasqua e della Quaresima come un tempo di conversione, di ripresa degli elementi essenziali e poi tutti i 50 giorni del tempo di Pasqua fino alla Pentecoste un tempo di rinascita nel dono dello Spirito, della sua fecondità, della sua ricchezza proprio in questi giorni in parrocchia si discuteva e alcuni discutono, ah io vorrei avere la fede di quel tale o di quel tal'altro non perché magari molto devoto, invece io sono pieno di dubbi e io dicevo guardate che ognuno ha il suo dono ognuno di noi ha il suo carisma a te è dato il dono della devozione a te è dato il dono invece della riflessività, della razionalità ma sono tutti doni complementari lo Spirito nella sua ricchezza suscita nella comunità cristiana persone, competenze, situazioni che fioriscono in una novità di vita solo nella misura in cui appunto stiamo uniti è lo Spirito che fa comunione nella Chiesa così come nella Trinità ecco allora che i carismi di ciascuno possono essere compresi e anche capiti solo nella misura in cui si comunicano e si condividono perché ognuno possa dare il suo contributo nell'ottica appunto della vita cristiana e c'è una bella preghiera che troviamo nella scrittura, nella Bibbia e che poi è stata ripresa anche da San Francesco d'Assisi perché di fatto il suo Cantico delle Creature è un cantico che riaffonda le sue radici su questo cantico che troviamo nel libro del profeta Daniele nel quale appunto si invita tutta la creazione a sentire questa profonda unità lodate, benedite il Signore esaltatelo con grande gioia dice San Francesco benedite il Signore che raduna tutte le schiere del mondo la creazione, tutti gli ordini celesti e terrestri in una lode una lode cosmica se vogliamo una lode che anche gli astri del cielo benedicono il Signore anche le piogge, le rugiade benedicono il Signore tutto ciò che appartiene alla creazione è coinvolto in questa dinamica e perché lo troviamo nel libro di Daniele? perché Daniele di fatto è un libro che appunto per noi è un libro profetico nella tradizione ebraica ricade invece nella categoria degli scritti perché probabilmente è un libro che è collocabile nella sua stesura nella sua scrittura molto tardo nell'epoca del Secondo Tempio sicuramente e anche probabilmente un po' romanzo storico nel senso che racconta fatti che sono accaduti in un contesto storico non ben precisato, non ben chiaro a chi scrive e a chi legge in una situazione appunto esilica in cui Daniele insieme ad altri giovani che vivono nella diaspora in questo luogo quindi probabilmente una situazione di deportazione come quella della Siria, come quella di Babilonia vengono istruiti alle consuetudine, agli usi della corte del re appunto pagano, del re Caldeo e questi giovani insieme a Daniele vengono appunto messi al servizio del re per poter essere capaci di creare un dialogo culturale e anche una comunione di intenti in un regno che appunto, come appunto quelli assiro-babilonesi cercava di inglobare le popolazioni dominate in una dinamica di reciproca ricchezza di reciproco arricchimento secondo appunto quel fenomeno della mescolanza culturale di uno scambio anche uno scambio a volte anche violento certamente con le deportazioni e le plantazioni di famiglie di intere città in questo appunto strategia se vogliamo anche certamente non solo militare ma anche colonizzatrice dell'impero Caldeo e appunto Daniele insieme agli altri giovani Anania, Azaria e Misaele li conosciamo perché appunto ritornano in questo cantico sono istruiti alla corte del re ma ecco il re non transige sull'osservanza delle norme di comportamento per cui chiede a questi tre giovani non solo di cibarsi di carni appunto ritenute dalla legge impure ma addirittura anche di prostrarsi agli idoli alla statua del re appunto elevata pubblicamente alla quale tutti devono prostrarsi e mentre il primo precetto quello dell'alimentazione Daniele e i suoi compagni lo aggirano tramite il consumo non solo di carni ma anche soprattutto di legumi e quindi di fatto vivono un altro tipo di alimentazione di proteine che però a seconda nonostante le ritrosie del responsabile di questi dell'istruzione di questi giovani riescono a dimostrare che questa alimentazione è totalmente compatibile con un addestramento e con la vita florida appunto di questi giovani allevati alla cultura del popolo caldeo sul secondo precetto appunto cade tutto perché oggettivamente questi giovani non si prostrano alla statua del re e il re che appunto li aveva molto cari perché di fatto Daniele era riuscito anche a risolvere alcuni enigmi avendo il dono della profezia riesce a raccontare al re alcuni sogni a spiegare anche cosa succederà nella vita di questo di questo di questo regnante di questa dinastia che poi appunto prefigurerà poi il ritorno del popolo verso la terra promessa ecco il re è innamorato di questi personaggi di questi giovani che certamente hanno una sapienza straordinaria e raccontano una capacità anche di profondità e di analisi che lui non conosceva suo malgrado viene costretto appunto a condannarli e vengono buttati appunto i tre giovani nella fornace ecco qui c'è già un po' la prima dissonanza perché Daniele c'è non c'è insomma di fatto questi giovani si ritrovano dentro a una fornace ardente dice il libro appunto del profeta Daniele custoditi e protetti da una nube come di rugiada quindi di fatto da un fenomeno inspiegabile gli stessi appunto funzionari e servi del re si agitano perché cercano di far crescere le fiamme in questa fornace ma loro ci cadono dentro e quindi muoiono ma in realtà i giovani si salvano e appunto insieme ai tre giovani appare anche una figura come di un angelo una figura che è un profeta una figura che è una figura connotata di un'aura soprannaturale che li guida proprio a uscire fuori quando il re appunto a un certo punto li chiama dice vabbè uscite a questo punto perché con tutte le vesti intatte e questo prodigio di fatto colpisce il re il quale appunto eleva in un lieto fine se potremmo così dire questi giovani ha una dignità e li autorizza anche a vivere la loro devozione al loro Dio al Signore appunto di Israele perché hanno superato questa prova un po' come succede anche in tante altre culture le prove che dimostrano non solo l'innocenza ma anche la giustizia di una persona e proprio in questo movimento della della liberazione così come Israele liberato dal Mar Rosso dopo aver visto distrutto l'esercito del Faraone e prorompe in un cantico di lode voglio cantare in onore del Signore anche questi tre giovani cantano intonano l'inno lodavano Dio e benedicevano il Signore passeggiando in mezzo alle fiamme allora Zaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo le braccia disse benedetto sei tu e quando escono dalla fornace appunto quei tre giovani a una sola voce si misero di nuovo a lodare a glorificare Dio benedicendo e dicendo benedetto sei tu Dio dei padri nostri degno di gloria e di lode è il tuo nome per sempre e intonano appunto questo lungo cantico che conosciamo perché viene usato nella liturgia delle ore come cantico appunto di lode nei salmi delle lode del mattino della domenica a domenica alterne i due brani le due due parti con una consapevolezza della della lode della potenza dell'opera di Dio questo cantico raduna tutto il creato cioè invita ogni creatura a dare lode al Signore e questo è un orizzonte che noi di solito siamo soliti appunto pensare che sia stato il cristianesimo a diffondere il suo messaggio religioso a tutta la terra a tutti i popoli a tutta l'umanità questa dimensione universale certamente possiamo farla risalire alla predicazione di Gesù che a un certo punto dopo aver mandato i suoi discepoli alle sole tribù di Israele li invia a tutto il mondo con appunto la risurrezione andate annunciate a tutte le nazioni e battezzate nel nome della Trinità certamente questo impulso universale viene chiaramente fatto in modo esplicito dalla dalla predicazione di Gesù e dal suo annuncio invio missionario dopo la Pasqua ma vedete già nell'Antico Testamento un libro come quello di Daniele che ripeto per la tradizione ebraica è un libro già tardo però si vede questo orizzonte universale sole e luna stelle del cielo piogge e rugiade venti tutti non solo monti e colline creature che germinate sulla terra mostri marini e quanto si muove nell'acqua uccelli del cielo figli dell'uomo Israele i sacerdoti i servi del Signore certamente gli spiriti e le anime dei giusti tutti i pi e gli umili di cuore ecco questo orizzonte universale che il profeta Daniele dipinge come l'orizzonte vero d'identità della potenza di Dio che si manifesta anche appunto a Babilonia cioè sotto il re Nabucodonosor che rimane impietrito e stupito a un certo punto dice ma facciamoli venire fuori questi qua perché uscite venite fuori voi i servi del Dio altissimo e certamente tutti rimasero stupiti sconvolti di questa capacità di questo prodigio che è proprio l'orizzonte della missione universale un orizzonte che porta i cristiani a portare il Vangelo dappertutto in ogni terra in ogni luogo in ogni situazione in ogni cultura in ogni momento della storia consapevoli che lo spirito di Dio previene l'annuncio missionario cioè che non è che la Chiesa porta il Vangelo come appunto se laddove appunto si porta il Vangelo non ci fosse nulla anzi c'è una corrispondenza misteriosa ma anche veramente prodigiosa tra chi annuncia e chi ascolta come se appunto lo spirito di Dio dice gli atti degli apostoli preparasse il cuore di coloro che stanno per ascoltare il Vangelo come se l'essere creature di Dio potesse essere il fondamento e la radice comune nella quale possono fiorire e sbocciare e crescere delle relazioni di comunione tra tutte le creature non solo appunto gli esseri umani non solo i figli dell'uomo i pio umili di cuore coloro che appunto hanno una specie di devozione in qualsiasi forma che essa sia ma proprio tutte le creature le colline i mari i fiumi ecco capite questo orizzonte di universalità è l'orizzonte della creazione noi siamo soliti pensare che il fatto che Dio ha creato il mondo sia il primo punto di partenza per poter capire cos'è la religione ma in realtà succede l'opposto cioè l'esperienza di Dio che è l'esperienza personale a un certo punto si allarga a una condivisione che stupisce come io posso incontrare una una persona un fatto un avvenimento della mia vita che mi spinge a una spiritualità a un'interiorità a una ricerca a volte anche razionale a volte semplicemente così fatta di devozione io poi scopro che la stessa spinta è condivisa non solo da altre persone che magari io conosco ma da tutti gli uomini non solo da tutti gli uomini e le donne del mondo ma anche da tutte le creature questo anelito questo senso religioso è in tutto il mondo è per questo che noi diciamo che Dio ha creato il mondo non perché appunto come dice qualcuno purtroppo in una divulgazione religiosa molto bassa di un basso livello dice no per forza dovrà pure averlo fatto qualcuno questo mondo sì ok ma in realtà l'idea della creazione del mondo non ci viene dal constatare la realtà del mondo ci viene dal condividere la sua benedizione cioè nella misura in cui tutte le creature benedicono il Signore ci rendiamo conto che queste hanno avuto origine da Lui capite è il rovescio è vero che il libro della Genesi ci racconta della creazione del mondo all'inizio ed è il primo libro della Bibbia ok quindi possiamo provare cioè essere indotti a pensare che questo sia il punto di partenza di un'esperienza religiosa quando in realtà è il punto d'arrivo l'idea che Dio abbia creato il mondo è l'effetto finale di una condivisione tra tutti gli esseri umani e tra tutte le creature di questo senso religioso di questo senso di appartenenza del senso di uniformità e di coerenza del creato questo che viene cantato appunto dai tre giovani nella Fornace e nel libro di Daniele questo cantico ci aiuta a comprendere cosa significa che riconoscere Dio come creatore è l'ultimo atto di un gesto religioso perché inizialmente la religione nasce come relazione personale tra Dio e questa esperienza appunto dello spirituale di Dio chiamiamolo l'esperienza religiosa è un'esperienza originaria anche un bambino prega appena appena comincia a parlare poi comincia a far domande comincia a sentire dentro di sé questo bisogno di trascendenza che supera anche il rapporto con i genitori ma poi piano piano questa esperienza religiosa si allarga allarga il suo orizzonte e comincia a comprendere una profonda comunione e solo in questa intuizione di una armonia del cosmo che benedice il Signore appunto tutte le creature benedico il Signore che noi ipotizziamo questo rapporto tra ogni creatura e Dio creatore noi diciamo in italiano onnipotente ma che in realtà è più bello usare l'espressione che ci tiene sul palmo delle sue mani perché la traduzione del greco può essere simile colui che abbraccia tutto nell'amore ave maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore